amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione auto sportive oggi voglio fare una puntata un po particolare nel senso ho fatto alcune riflessioni dopo l'accessione del gruppo stellantis al gruppo psa avvenuta un po di tempo fa mi sono venute in mente delle delle considerazioni e volevo appunto condividere delle riflessioni puramente personali un po con tutti gli utenti del canale quindi parliamo appunto diciamo di quello che era la fiat grosso modo la più grossa società presente in italia da oltre 100 anni poi passata a fca poi passata al gruppo stellantis e poi passata ceduta al gruppo psa quindi diciamo nell'arco di 100 anni è un'azienda che ha assegnato in tutto e per tutto quello che è l'economia in italia e diciamo la storia non solo dell'automobile ma proprio ha condizionato l'economia italiana con appunto risvolti positivi risvolti negativi quindi mi ricollego ai tempi indietro rispetto all'avvocato agnelli non ci vado perché ovviamente non ho l'età per andare ulteriormente indietro però diciamo dall'epoca in cui eh Gianni Agnelli è diventato il patron della fiat da lì i ricordi o la documentazione che ho ricavato sicuramente un pochino più chiara quindi il fatto che ehm Agnelli abbia portato avanti questo questo impero sulla base di eh sovvenzioni statali cospicue questo è un dato di fatto però diciamo che ehm se da un lato lo Stato italiano ha sovvenzionato quelle che erano appunto gli investimenti la cassa integrazione e quant'altro dall'altra parte comunque c'era un interscambio da parte della proprietà della famiglia Agnelli che comunque creava lavoro creava un indotto quindi a seconda di come poteva andare il mercato comunque c'era non dico una situazione paritetica però diciamo c'era una situazione in cui eh da una parte si dava e dall'altra parte si prendeva e fin lì più o meno diciamo le cose potevano avere un senso quello che è cambiato eh radicalmente è cosa è successo dopo l'epoca ehm dopo che è morto eh l'avvocato Agnelli ehm da lì è iniziato un come dire un rapporto fra un'azienda e lo Stato italiano abbastanza equivoco nel senso che lo Stato italiano ha continuato a sovvenzionare ehm il gruppo e il gruppo che a questo punto è passato da Fiat allora FCA quando appunto è subentrato Marchionne da lì ha iniziato un un rapporto diciamo economico e commerciale completamente diverso diciamo nonostante che venissero incamerate delle sovvenzioni statali il gruppo ha iniziato appunto da quando è arrivato Marchionne a disinvestire a eh diciamo a fare dei tagli cospicui sia a livello di eh personale sia a livello di centri produttivi è anche vero che mh nell'epoca di Marchionne sicuramente eh sono stati fatti anche dei come dire mh dei grossi colpi finanziari eh vedi il discorso dell'acquisizione della crisi che è stato uno dei colpi magistrali a livello diciamo economico finanziario quindi fin tanto che allora prendiamo per buono quello che è stato fatto dall'avvocato Agnelli prendiamo ancora per buono quello che più o meno è stato fatto da Marchionne al quale bisogna riconoscere una capacità manageriale eccezionale su questo penso che nessuno possa ehm dire il contrario era un appassionato sicuramente di auto era un grosso economista per cui doveva far quadrare il bilancio quindi ha anche come dire dovuto fare dei sacrifici a livello di eh occupazione o quant'altro però comunque è stato quello che ha rilanciato il marchio Alfa Romeo eh in maniera veramente unica creando durante il suo diciamo la la sua epoca auto tipo eh la 4c la 8c eh sull'Alfa Romeo veramente la Giulia ehm la Giulia quadrifoglio cioè ha fatto veramente ha creato dei modelli la Stelvio e quant'altro che hanno rilanciato che avevano rilanciato il marchio Alfa Romeo veramente in maniera eccezionale il gruppo Fiat in grosso modo aveva trovato la sua collocazione sul marchio Lancia aveva dichiarato apertamente che non era produttivo quindi l'unica pecca diciamo sua da un punto di vista diciamo di marketing e che aveva deciso di tagliare completamente finanziamenti sul sul marchio Lancia per il resto diciamo che era uno che comunque vedeva positivamente il mercato dell'auto ovviamente eh legato al al più grosso produttore di auto in Italia il problema è nato dopo la morte di Marchione dove appunto le redini del di quest'impero sono ehm sono passate eh nelle mani di John Elkham hm io non vorrei diciamo ehm inimicarmi ehm immediatamente le 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 diciamo coloro che magari stimano questa persona io devo dire onestamente non ho nessuna stima in questa persona perché può anche essere un bravo manager secondo me è un manager mediocre però può anche essere un bravo manager rimane il fatto che ha dal mio punto di vista preso in giro l'Italia e tutti coloro che ne fanno parte perché poi alla fine siamo noi con le nostre tasse che ehm contribuiamo alla subvenzione di gruppi così grossi ecco tanto per fare un esempio nel 2010 ehm era stato fatto un accordo ehm con il governo italiano per rilanciare la parte produttiva del gruppo ehm Elkham si era sbilanciato ehm dichiarando che appunto avrebbe investito una cifra enorme sta parlando di quasi ai tempi 20 miliardi di euro per rilanciare il gruppo ehm cosa che puntualmente non è avvenuta tant'è vero che due anni dopo ha iniziato non solo una non ha proseguito con questo progetto Italia ma ha iniziato poi a dismettere ulteriormente altri siti produttivi a mettere altre persone in cassa integrazione tanto per fare un 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 mettere giù due numeri se nel 1985 o fine anni 80 primi anni 90 quello che era l'allora ehm Fiat produceva più o meno due milioni di autoveicoli all'anno oggi quello che è rimasto del gruppo ne produce poco più di 400 mila 450 mila autoveicoli cioè ha perso i 75 quasi 75% della capacità produttiva cioè qualche cosa evidentemente non deve essere andato proprio molto bene e nel tempo eh Elcam e e e tutti coloro che fanno parte della famiglia hanno continuato a guadagnare delle cifre iperboliche è vero che il gruppo che eh prima di essere venuto a FCA era Stellantis comunque faceva parte della galassia Exor dove appunto era uno dei tasselli quindi non era solo l'unico tasselli ma era uno dei tasselli però quello che io trovo veramente scandaloso da parte di un manager eh è il fatto che mh continui a chiedere dei soldi delle sovvenzioni all'estate italiano promettendo un rilancio della capacità produttiva mh in tutti i sensi e poi puntualmente prende i soldi se li intasca e eh eh fa cose completamente diverse veniamo anche a quello che è la struttura della di questo gruppo è una società che ha origini italiane è una società quotata in Olanda ha la sede fiscale a Londra e ha una dirigenza operativa francese per cui uno mi deve spiegare quello che era diciamo il il nucleo originale appunto ai tempi della Bocchia Tagnelli mi deve spiegare che cosa è rimasto di questo nucleo originale praticamente non è rimasto nulla è diventata solo una come si dice in inglese una cash cow cioè una una mucca da mungere sulle spalle degli italiani ecco perché io mh caro signor John Elcam eh non ho nessuna stima eh e non ne parlo certo positivamente perché eh ripeto come me ci sono altri più o meno cinquantasei milioni di italiani che attraverso il pagamento delle tasse o quant'altro sovvenzionano la ricchezza di questo individuo che non dà niente in cambio tutto questo per arrivare a eh all'ultima mossa di questa mh partita di scacchi dove il caro John Elcam ha preso l'azienda l'ha sostanzialmente mh ceduta eh o regalata quasi a livello economico al gruppo PSA il gruppo francese PSA che non ha fatto altro mh che introitare quelli che erano le sovvenzioni che il governo italiano ha dato nel corso degli anni stiamo parlando di una cifra intorno ai 220 miliardi cioè eh lo stato italiano ha pagato nel corso degli anni dall'epoca Fiat FCA Stellantis e quant'altro oltre 220 miliardi di lire pagati da noi poi uno mi dice perché uno si deve incazzare mh direi che è abbastanza è abbastanza chiara la faccenda ehm quindi eh questi francesi che hanno praticamente avuto eh come pacchetto regalo quest'azienda cosa hanno fatto hanno mh decentrato hanno fatto leva sulle loro capacità produttive hanno spostato ulteriormente l'asse produttiva in paesi come la Polonia ehm la Bulgaria o altri paesi togliendo via eh diciamo tutta la parte diciamo di ehm persone impiegate o di siti produttivi dall'Italia perché praticamente l'Italia diventa una sorta di scatola vuota e oggi noi a livello di ehm produzione di autoveicoli siamo il fanalino di coda non so se siamo al ventesimo posto o diciottesimo posto nel ranking mondiale adesso al di là di quello che è il Giappone ehm gli Stati Uniti adesso anche la Cina ma comunque a livello europeo tanto per mettere due pesi due misure la Germania produce in grosso modo due milioni di autoveicoli all'anno eh la Spagna produce eh anzi no tre milioni di autoveicoli all'anno la Spagna produce un milione e mezzo di autoveicoli il la la Francia un milione noi siamo arriviamo poco più di quattrocentomila cioè siamo proprio veramente mh un fanalino di coda cioè una volta veramente veramente eravamo la quarta potenza o la terza la quarta potenza mondiale adesso siamo veramente eh degli scappati di casa quindi questo secondo me è l'aspetto veramente sulla quale ho dovuto fare una riflessione e mi lascia proprio la mano in bocca perché eh mai come oggi un paese come il nostro dovrebbe far leva su quello che sono le diciamo ehm le caratteristiche produttive le caratteristiche creative il gusto italiano non essere come dire eh depauperata e ehm munta come appunto una mucca solo per una questione di arricchimento di una famiglia o di una cioè di una persona o di un un ristretto gruppo di persone questo secondo me assolutamente è immorale eh ritornando mh al discorso dei francesi come dicevo se voi andate a vedere tutti i modelli che vengono prodotti oggi con il marchio fiat parlo o marchio fiat o marchio jeep o quello che resta o marchio alfa romeo che dir si voglia o anche lancia visto l'ultima lancia y che viene che è stata lanciata ultimamente sono tutti eh come dire delle scatole che hanno la parte esterna cioè l'immagine se vogliamo la carrozzeria marchiata con un marchio italiano e tutta la parte meccanica tutti i motori sono tutti motori francesi fra l'altro dei motori di merda perché sono motori la maggior parte eh con cinghie a bagno d'olio abbiamo già fatto eh diverse ehm abbiamo già documentato diverse eh problematiche su questo genere di motori quindi almeno facessero dei motori funzionanti o funzionali ci potrebbe ancora stare ma mi fai una scatola dove mi dici che questo questo oggetto è un oggetto mh mh fiat alfa piuttosto che eh jeep e poi vai a aprire sotto al cofano e trovi il solito motore farloco mh che che crea un sacco di problemi questo secondo me è un ulteriore presi in giro che la dice lunga su come ehm questo 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 signore ben pensante eh eh ha trattato noi e l'Italia in questo periodo per cui insieme a Elon Musk che è un altro personaggio poi faremo un'altra puntata su questo un altro personaggio pericoloso secondo me è uno veramente pericoloso un un individuo del genere secondo me bisognerebbe fare delle belle riflessioni e lo Stato italiano dovrebbe arrivare anche a mh come dire anzitutto a non sovvenzionare più eh un gruppo del genere ma anche a secondo me recuperare in parte quello che è stato dato ingiustamente quello che questa persona o questo gruppo si è incassato ingiustamente io la penso in questa maniera mh sfogo del tutto personale mi piacerebbe molto mh sentire i vostri commenti per cui come al solito io cercherò di rispondere a tutti chiaramente ci sarà qualcuno che non sarà d'accordo io sono convinto che la stragrande maggioranza dei dei commenti mi daranno ragione perché come girano le palle a me girano le palle anche a tutti gli italiani che hanno un minimo di sale e zucca in testa se c'è qualcuno che è contrario discuterò con lui molto volentieri molto volentieri per il momento è tutto un saluto alla prossima saluto alla prossima saluto alla prossima